Il più grande successo italiano di tutti i tempi, Malizia. Ora lo stesso regista, Salvatore Santeri, gli stessi attori, Laura Antonelli e Alessandro Momo, vi presentano il nuovo successo, Peccato Veniale. E la storia di una famiglia, anzi la storia di una madre... Oh, che aspetti a portare quella paracreatura a far pipì, che gli scoppi la vescia? Di un padre... Potresti fare un grembiule della sua misura, mi pare, no? Di un fratello maggiore... Fermi tutti! Onip che poi ci sono abbraccia e baci per tutti. Mi voglio di ansia, purché non arrivi una tastata di culo anche per me. Di un fratello minore... Oh Dio, Dio, che disgrazia. Un figlio finocchio. Della moglie del fratello maggiore... No, del minore, del maggiore, del minore, del maggiore, del maggiore, del ma... La moglie. Insomma, la storia di una cognata e di un piccolo Peccato Veniale. Sandrino, ma dove la stai versando? Ma cosa ho fatto il tuo fratello che ce l'ha con me? Ma qualche fuori il tuo fratello di un cazzo alto? Lino! Oggi è qua. E... Ah, voilà! Tronzolo, tu devi farle con me. Io ti spezzo le osse del capocollo. Sandro, per favore, mi slacci? Renzo vuole che pigli la tintarella integrale. Ti giri o no? Io guardo. Lo sai che mi piace. Sandro, esci un attimo che mi cambio. E perché dovrei uscire? Fai come l'altra volta, no? Tanto mica ti guardo. Come vuoi. Sandro, che fai? Girati! Tu mi hai baciato. Come una sorella. Ti sei fatta toccare. Come una sorella, vero? Speravo che tu capissi. Non volevo. La sei già? Ma... Guarda che chiamo tuo padre. E chiamalo. Sono tutti usciti. La 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 Grazie a tutti.